bene salve buonasera a tutti e benvenuti alla prima chiusura della nuova ottava un'ottava che praticamente l'ultimo ottava del mese di marzo che chiude questo mese appunto il venerdì prossimo 31 marzo l'insuccesso di trump nel poter effettuare una una controriforma per quanto riguarda il comparto sanitario spinge al ribasso i listini europei i dac si chiude a meno 0,57 per cento l'ibax a meno 0,06 per cento e cac di parigi a meno 0,07 per cento i fuzzi londra a meno 0,59 per cento il fuzzi mi a meno 0,32 per cento oggi non ci sono stati dati importanti l'unico data è quello del relativo oggi è stato pubblicato l'indice tedesco ifo salito a 111 1 punti da da 111 1 punti scusatemi a 112,3 punti sotto le stime invece l'offerta di moneta m3 in un aumento del 4,7 per cento anno e in linea con il consenso l'indice che misura la concessione i nuovi prestiti bene andiamo a vedere invece domani che cosa domani martedì 28 marzo per quanto riguarda la sessione europea non abbiamo dati interessanti quindi passiamo direttamente alla sessione americana con alle 13 e 30 con la bilancia commerciale del mese di febbraio alle ore 15 la fiducia dei consumatori del mese di marzo poi alle 15 e 10 dal canada c'è una conferenza stampa da parte del governatore polozzo della boc della banca centrale canadese a oshawa e alle 17 e 15 un'altra conferenza stampa questa volta a parlare sarà appunto la governatrice della federal reserve janet jelen bene questi sono allora i miei contatti giancarlo chioccio la tele trade trattino dj punto it il link per poter iscriversi al web nella alla diretta live e la chat telegram ricordo che siete ancora in tempo diciamo mancano ancora un po di giorni per poter approvare il servizio di segnali e che è ancora gratuito appunto fino al 31 marzo bene adesso passiamo subito a guardare che cosa è successo per quanto riguarda appunto i primi movimenti che hanno caratterizzato la prima ottava allora sul settimanale in pratica abbiamo una situazione che venerdì scorso ha confermato il movimento rialzista già di due settimane fa ovvero la settimana che del 12 marzo con una chiusura sulla media 21 quindi anche confermata anche la settimana del 19 marzo oggi vedete c'è stato questo movimento rialzista dovuto in particolare alla debolezza del dollaro americano quindi che anch'esso appunto ha risentito della bocciatura della riforma sanitaria quindi che da parte di donald trump da parte soprattutto dei repubblicani sul giornaliero eccoci qua sul giornaliero vedete c'è stato questo un'apertura di settimana in gap up che al momento ancora si deve chiudere ancora deve essere chiuso ed il prezzo vedete si è appoggiato 1 0 8 e 34 quindi siamo arrivati adesso in questo momento fino a toccare un massimo giornaliero a 1 0 9 10 per la precisione 0 5 e adesso c'è una correzione c'è un rientro da parte quindi una maggiore pressione da parte dei venditori supportata soprattutto da un da un da una ripresa da parte del dollaro americano la situazione si vede meglio su h4 dove praticamente dove aver testato vedete questa trend line della di questo canale rialzista quindi la base superiore della di questo canale c'è stato questo proprio nelle ultime quattro ore è stato questo rientro ancora adesso che stanno spingendo i venditori al momento però il ci troviamo sempre un ambiente rialzista anche se ci potrebbe stare nelle prossime sedute nelle prossime ore ci potrebbe stare appunto una correzione quindi questo è per quanto riguarda la situazione mentre invece per quanto riguarda il dollaro ien andiamo a vedere subito che cosa ci offre quindi passiamo dal settimanale il settimanale praticamente abbiamo una indicazione ribassista vedete la settimana scorsa è riuscito a chiudere dopo tanto tempo che le candele settimanali con una chiusura al di sopra la media 21 quindi da metà del mese novembre dell'anno scorso quindi praticamente è stata la prima chiusura sotto la media 21 quindi l'indicazione short anche sul giornaliero vedete abbiamo la continuazione di questo movimento short iniziata su questa area di massimi a 115 0 4 dopo aver testato la resistenza una chiusura quindi sotto la media 21 la rottura di 130 0 2 e poi adesso i test di 110 e 34 la situazione potrebbe essere abbastanza interessante nelle prossime settimane nelle prossime sessioni o nelle prossime ore in quanto sto monitorando la rottura di 110 e 34 anche su h4 quindi vedete in questo momento c'è un rientro siamo una fase di pullback però al di sotto 110 e 34 praticamente ci potrebbe essere la possibilità di un ingresso in vendita andiamo a vedere invece che cosa è successo per quanto riguarda la stellina dollaro bene sappiamo che sembra la settimanale la stellina dollaro vedete praticamente qua c'è un test spalla che più volte commentato durante la diretta live è un test spalla un po' particolare nel senso che la spalla la prima spalla forse la spalla sinistra questo è un test spalla rovesciato è un po' pronunciato però il prezzo finalmente è uscito proprio questa ma in questa giornata di oggi al di fuori la neckline se mi sposto sul giornaliero vediamo quindi ecco la situazione la situazione quasi vede è abbastanza chiara quindi vedete quindi abbiamo questo movimento rialzista iniziato proprio da questa zona di minimo relativo su h4 ecco qua ecco qua praticamente anche qui abbiamo un un canale rialzista in questo momento vedete c'è una correzione short dovuta quindi a questa è un inizio diciamo proprio nelle ultime battute di questa prima sessione dovuta appunto a un rientro in forza da parte del dollaro americano dopo una mattinata vedete che praticamente questa è la candela che dalle otto che ha chiuso a mezzogiorno alle ore 12 c'è stato vedere questo forte movimento quindi nella prima parte di 90 punti adesso quindi c'è questa correzione con un una fase di recupero di circa una cinquantina di punti passiamo invece ad le varie operazioni che noi che ho in macchina new ziland dollaro quindi new ziland dollaro sono sell in questo momento è l'operazione che almeno dalla scorsa settimana mi sta dando un po di grattacavi nel senso che eccola qua vedete cioè siamo sempre al di sopra il prezzo di ingresso però il movimento che c'è stato oggi settimanale mi dà una pressione short oggi c'è stato vedete un rientro vedete eccolo qua una falsa rottura di 0 70 e 49 quindi se c'è una chiusura sotto 0 70 e 49 c'è una maggiore propensione verso una quindi un'indicazione short quindi a vantaggio nella nostra operazione di vendita andiamo su euro sterlina quindi per quanto riguarda euro sterlina scusatemi questo euro dollaro allora euro sterlina euro sterlina eccola qui qua praticamente anche qua vedete siamo sell a pochi punti dal 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 prezzo di ingresso però praticamente anche qua vedete c'è una maggiore propensione da parte dei venditori poi abbiamo audiena audiena ricordo che è una delle due operazioni long term sul settimanale su indicazioni della bearish cyber che è stata confermata con tutti i filtri in questo momento siamo in profitto c'è una chiusura sotto diciamo siamo sotto alla media 21 quindi la situazione sta andando bene poi passiamo a new zealand yen un'altra operazione che in questo momento è positiva quindi molto probabilmente forse stasera la vado a chiudere direttamente al mercato in quanto perché perché praticamente vedete c'è questo questa fase in cui si è fermato il prezzo quindi vado a spostare proprio in questo momento lo lo stop loss a 0 a 77 e 95 un attimo solo che vado a spostare lo stop loss a 0 77 e 95 un attimo solo che allora quindi questo quindi per quanto riguarda new zealand yen ho spostato lo stop loss a 0 78 e 10 poi abbiamo sterlina new zealand appunto la seconda operazione long term che in pratica eccola qua praticamente siamo vai su indicazione appunto della di questa bellissima buy bullish butterfly che si è formato in ambiente settimanale e anche qua siamo in profitto quindi queste sono le operazioni in macchina bene al momento non c'è altro da aggiungere quindi ci vediamo direttamente nella prossima nella prossima diretta live grazie mille per l'attenzione e buona sera da tutti